Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale, non sono sparita, purtroppo è stato uno stop forzato perché hanno operato mia mamma, è andato tutto bene però ho dovuto fare mille mille cose nel mentre, infatti sono stanchissima, però è andato tutto bene quindi sono altrettanto felice e a proposito volevo assolutamente ringraziarvi, soprattutto perché non ha visto l'ultimo video fino alla fine però vi ringrazio veramente per le parole che avete detto nel video dove vi parlavo degli esami di mia mamma certe parole, anche se dette da persone che non si conoscono, in certi momenti fanno veramente veramente bene però adesso torniamo all'argomento del video che è la nuova collezione di Pat McGrath, come avrete letto dal titolo che mi è finalmente arrivata, ci ha messo una vita, ma l'ho percepito così lungo questo periodo non perché ci abbia messo tanto più del solito, poco più di un mese, più che altro perché sono due settimane che io, anche forse di più, che io continuo a vedere questi prodotti recensiti su Youtube Italia quindi stavo iniziando a preoccuparmi parecchio ma il giorno in cui avevo deciso di scrivere al sito e di chiedere spiegazioni sono arrivati finalmente mi sono arrivati martedì, oggi è sabato, quindi per qualche giorno sono riuscita a provarli e una minima idea me la sono fatta di questa collezione io ho preso solamente i bronzer, plurale, specifico e il quad di ombretti ho lasciato perdere il blush perché non era un colore che mi dicesse qualcosa e ho lasciato perdere anche i prodotti labbra perché mi sembra un po' troppo caldi detto ciò io inizierei dai bronzer questo è il packaging esterno devo dire sempre molto sobrio in stile Pat sono made in Italy, contengono 9,5 grammi e hanno un paio di 18 mesi e questo invece è il packaging primario identico a quello dei blush infatti questa cosa... io li tengo in posti separati blush e bronzer ma se dovessi tenerli assieme farei un po' di difficoltà a capire quale sia uno e quale sia l'altro comunque io di questi bronzer che sono gli Skin Fetish Divine Bronze ne ho presi due naturalmente ho preso i due più chiari Naked Desire e New Dawn che visti così, soprattutto credo dalla telecamera non si capisce molto la differenza ma un minimo di differenza c'è ve lo posso assicurare dal vivo quando li ho acquistati io cioè il giorno di uscita non era possibile prendere questi due colori nel duo che viene meno c'erano solo due duo disponibili in colorazioni molto più scure di queste quindi io li ho acquistati singolarmente guardando sul sito oggi ho visto che adesso sono disponibili molti più duo tra cui anche quello che contiene queste due colorazioni qua e questa è la cialda che ha una corona stampata sopra io adesso ho fatto un po' di swatch quindi un po' consumata lo è sono polvere descritte dal finish vellutato in grado di andare a blerrare a perfezionare l'incarnato dovrebbero essere modulabili e mistake proof sono uscite in otto colorazioni sette dal finish demi matte e solo una dal finish più luminoso che è Desert Glow sì che è Desert Glow è troppo scura per me quindi quel tipo di finish non ve lo posso far vedere sono comunque formule vegane contengono talco per chi avesse problemi ad utilizzare prodotti contenenti talco è bene dirlo e dovrebbero avere una lunga durata vi dico già da subito che la lunga durata ce l'hanno io appunto l'ho indossati per questi tre giorni e a sera erano ancora lì esattamente come i blush a cui assomigliano assolutamente come formula tranne che per una cosa i blush di Pat sono estremamente pigmentati mentre questi qua i bronzer sono più modulabili più costruibili ho preso due colorazioni per farvi vedere la resa dei diversi colori sul mio incarnato ma anche perché sul sito sono descritti a venti due sottotoni diversi questo è un soft golden bronze mentre questo new doney è descritto come neutral bronze e il fatto che fosse più neutro sapete mi attirano i bronzer neutri e anche neutro freddi purtroppo nella gamma di Pat non ce ne sono di neutro freddi però appunto volevo vedere le differenze tra i due e questi sono gli swatch questo qua è Naked Desire e questo qua sopra è new doney come vedete non sono bronzer freddi ma non sono neanche eccessivamente caldi o arancioni passiamo adesso all'applicazione vi dico sul viso ho solo il fondotinta e il correttore e ho incipriato solamente il contorno occhi non il resto del viso quindi vediamo anche come si comportano queste polveri su una base non incipriata inizio con Naked Desire il più chiaro e lo vado a prelevare con il pennello da bronzer di Sonia G che vi dico è il mio preferito al momento questo è quanto ne ha prelevato non fa kickback in cialda e sia una polvere ma non spolvero lo vado ad appoggiare delicatamente prima è un colore molto chiaro anche per me sul sito per ogni colorazione di bronzer trovate anche i riferimenti delle colorazioni di fondotinta con cui va bene questo colore di bronzer infatti Naked Desire è indicato per le colorazioni di fondotinta naturalmente parlo del fondotinta di Pat McGrath da L1 a L5 mentre New Donate che è il secondo nella gamma è indicato per le colorazioni di fondotinta da L6 a L10 io ho di fondotinta di Pat la colorazione L6 che per me devo dire va benissimo e quindi l'ho preso tutti e due questo è un'altra storia comunque si sfumano molto bene sono estremamente costruibili vi ho detto rispetto ai blush che invece sono decisamente più pigmentati con cui con i colori più scuri bisogna fare attenzione questi invece sono più costruibili non fanno assolutamente macchia questo pennello non ve lo dico più non ci si mette veramente niente a sfumarli io continuo a passare il pennello perché sapete la mia adorazione per i bronzer e la mia incapacità a fermarmi quando inizio anche se questo qua ha appunto un colore più caldo rispetto a quello che piace a me di solito non è assolutamente arancione anzi ha un bellissimo sottotono adesso pulisco il pennello sulla tovaglietta di Sonia G che oggi uso per la prima volta e andiamo a provare New Donate anche qua appoggio il pennello alla cialda e questo è quanto ne ha prelevato anche guardando altri video visto che New Donate è decisamente più pigmentato rispetto a Naked Desire questa è una passata e infatti alla prima passata è decisamente più pigmentato di Naked Desire se vedete cose strane sulla mia fronte si ci sono ho tipo una grattugia al momento perché sto testando vari bronzer in crema su cui avevo dei dubbi che mi facessero uscire cose strane ed effettivamente è così questo che ho testato al momento un po' meno rispetto ad un altro però qualcosa me l'ha fatto uscire c'ho la fronte appunto che è una grattugia quindi se vedete bozzi e cose non è colpa del bronzer ecco comunque questo pennello è grande cioè è grande per il mio viso assolutamente sì ma vedete come non mi porta il bronzer dove non deve anche se è morbido anche se è grande ha un bellissimo controllo lo stesso provo a costruirlo un altro po' anche questo vediamo come si comporta New Duny è leggermente più neutro però è più pigmentato infatti per arrivare a questo colore con Naked Desire ho dovuto fare più passate però la differenza non è così netta ecco a me piacciono tutte e due li uso volentieri tutte e due non noto questa grande differenza ad essere sincera quindi secondo me ne basta uno e mi regolerei su quale colore prendere in base al vostro colore di pelle semplicemente perché questo sì è leggermente più neutro ma non è un neutro freddo questo qua non è aranciato non è così giallo veramente a me piacciono entrambi basatevi sulle colorazioni del fondotinta di Pat anche se non lo avete andando su sephora.com o facendo anche il test sul sito di Pat riuscite a trovare più o meno la vostra colorazione e in base a quella poi decidete che bronzer prendere perché veramente uno è più che sufficiente io ho fatto un po' di swatch i primi due sono quelli di Pat New Dawn è il più scuro e sotto c'è Naked Desire sotto abbiamo invece Tom Ford Terra che è decisamente più freddo e rosato rispetto a questi due poi questo invece Dior lo 04 Gucci 01 anche questo più rosato invece questi due qua fanno parte del duo di Victoria Beckham nella colorazione 02 mentre questo qua è Huda Beauty Glowish nella colorazione 01 i miei preferiti continuano ad essere Terra Tom Ford Dior 04 e Gucci 01 questi qua sono i miei preferiti perché sono i più freddi anzi Gucci e Tom Ford sono quasi rosati e la differenza si vede con quelli di Pat però si vede anche che questi qua non risultano così caldi così aranciati assolutamente veniamo adesso invece al quad di ombretti uscito per questa collezione che è il Divine looks quad nella colorazione venusian sunrise questo è il packaging esterno che è leggermente più grosso di quello dei bronzer però per il resto sono praticamente uguali anche questo quad comunque è made in italy come i bronzer da un paio di 18 mesi il packaging interno è esattamente identico a quello dei bronzer e a quello delle mothership l'unica cosa differisce perché non ha retro dorato e anche la scritta qua è salamente stampata mentre ad esempio in questo che è voyeuristic vixen è in rilievo in metallo similmetallo penso una differenza con i quad precedenti sono le dimensioni delle cialde questo appunto è venusian sunrise mentre questo è voyeuristic vixen la dimensione del packaging è identica mentre le cialde sono più grandi in voyeuristic vixen ma guardando la grammatura questo 5,2 grammi totali questo è 4,9 quindi in teoria qua c'è più prodotto o magari hanno un peso specifico diverso non lo so questo non ve lo posso dire comunque questo è il quad venusian sunrise anche lo specchio interno come potete vedere come tutti gli altri quad di pat naturalmente questo quad è ispirato alla collezione di bronzer quindi come colorazioni non poteva essere qualcosa di estremamente diverso da quelli di un bronzer e infatti io all'inizio non lo volevo prendere soprattutto per questo colore qua matte il più chiaro perché mi sembrava troppo pescato caldo aranciato infatti appena l'ho visto ho detto lasciamo stare poi vedendo gli swatch mi sono resa conto che non era così caldo e mi sono fatta convincere anche perché questo è vero è un bronzo caldo però è molto molto luminoso e quindi non ho saputo resistere non è una shade speciale almeno così non è indicato sul sito di Pat queste polveri sono descritte sul sito come polveri versatili modulabili anche se dà il pay off intenso come praticamente tutti i matt di Pat ma appunto si riescono a sfumare talmente bene da essere così versatili ed andare a scolpire e definire l'occhio questi sono gli swatch in alto nude solaris che è uno shimmer dorato chiaro per illuminare sotto invece c'è Sunset Taupe un marrone matt neutro più chiaro sotto ancora un marrone matt neutro più scuro che si chiama Velvet Eclipse e Gilded Glamour che è il bronzo dorato glitterino anche questa palettina qua io l'ho usata per due giorni e devo dire mi è piaciuta molto non pensavo comunque vado a prendere il colore più chiaro che è Sunset Taupe Matte con un Refre numero 16 un pennello da sfumatura abbastanza ampio non fa particolare kickback in cialda sembrano veramente molto cremose e lo vado a portare nella piega e il matte più chiaro è vero ma è anche tanto pigmentato e infatti ho preso un pennello un po' più fluffy del Refre numero 15 per avere una sfumatura più ampia e un colore meno pieno anche perché si è chiaro però sul mio tono di pelle è abbastanza presente come colore mi sono mi sono dimenticata di dirvi che sulla palpebra avevo messo il primer di NARS lo smudge proof quello trasparente naturalmente avevo appena appoggiato il pennello è sulla cialda non ho fatto giri strani ho prelevato più volte questo è il payoff che per me per avere un nude look è più che sufficiente anzi ci devo andare con un pennello che sia un po' più ampio un po' più fluffy poi vado a mettere il colore più glitterino il bronzo dorato praticamente su tutta la palpebra e lo vado a mettere questa volta con un pennello lo metto con questo pennello perché l'ho provato in questi giorni questo è il numero 33 e mi dà un effetto meno pigmentato ma presente e lo rende per me più portabile più da nude look ecco l'unica cosa che mi dispiace è di aver già fatto la base perché se avrò del fallout cosa che di solito succede con Pat vabbò me lo tengo e basta soprattutto per quanto riguarda gli shimmer con i matt non ho avuto alcun tipo di fallout in questi giorni neanche oggi il colore c'è ma non è così intenso ecco la base di colore non è così presente è presente la luminosità ma non ma non è così prepotente questo colore bronzo che però se è troppo intenso con troppa base diventa aranciato nonostante l'abbia messo con il pennello il payoff c'è questo pennello è spettacolare veramente bello mi sta piacendo tantissimo vado poi a prendere il colore più scuro velvet clips con un refro numero 28 e lo metto nell'angolo esterno tamponandolo vedete che è super super pigmentato andando a tamponare però riesco a sfumare anche un pochino i bordi con questo pennello non c'è una linea netta questo colore qua fa un po' di kickback in cialda rispetto a quello più chiaro sempre con il numero 28 di refro porto il colore più scuro nell'angolo esterno della rima ciliare inferiore e lo congiungo alla superiore con il refro numero 13 riprendo sunset top e lo vado a sfumare nella rima ciliare inferiore e poi vado a sfumare anche il colore più scuro all'angolo esterno però tenendomi solo sui bordi e risfumo il tutto con il refro numero 16 senza aggiungere colore come ultima cosa vado a prendere lo shimmer dorato più chiaro con un refro numero 3 e lo vado a mettere nell'angolo interno rieccomi ho concluso solo gli occhi ho messo un po' di mascara nelle ciglia superiori nella rima superiore interna ho messo una matita nera mentre nella rima inferiore ho messo questa matita qua di Diego della palma mi pare la numero 52 comunque vi scrivo tutto nel box informazioni nella parte più esterna mentre nella parte più interna della rima interna ho messo questo chameleon di Charlotte Tilbury nel colore bronze garnet che è semplicemente un bronzo io io purtroppo questi matitoni riesco ad usarli solo così perché non mi piacciono non mi dico niente sulla palpebra anzi mi durano anche poco quindi adesso finisco il tutto anche perché mi sto un po' lucidando concludo il tutto metto cipria blush illuminante come blush ho usato Paradise Glow che è il blush di Pat che vi avevo fatto vedere nell'ultimo video haul è un blush molto bello che secondo me si intona benissimo con questi colori però fate attenzione soprattutto se siete chiare come me prendetelo con un pennello che non è prelevi troppo che non sia troppo fitto troppo denso e mano molto leggera perché io ieri avevo a disposizione questo pennello qua che è il numero 04 di Ref che a me piace tantissimo me l'ho messo così in tranquillità ho fatto una chiazza color terracotta importante è tanto tanto pigmentato molto bello molto sfumabile dura tanto come tutti i blush di Pat ma è molto molto pigmentato in questa collezione sono anche usciti dei prodotti labbra tutti nella colorazione nude venus che io vi ho detto non ho preso perché è un po' troppo caldi ma io nude venus ho questo prodotto labbra qua di cui non mi ricordo precisamente il nome comunque sono quei rossetti balsami labbra dal finish glossato che è nel colore nude venus ed è quello che ho indosso adesso anche questo secondo me con tutti questi colori questo look ci sta da dio questa formula rimane la mia preferita in assoluto di Pat McGrath ma perché io amo i rossetti dal finish glossoso volevo farvi vedere ancora gli swatch comparativi di Voyeuristic Vixen e Venusian Sunrise e poi alcune cialde in altre palette per quanto riguarda un colore specifico questa qua è Voyeuristic Vixen mentre questa è Venusian Sunrise sono abbastanza diverse come palette anche se potrebbero sembrare simili alcuni colori in Voyeuristic Vixen sono più freddi mentre secondo me lo shimmer è decisamente più caldo più aranciato ed è il motivo per cui forse mi piace meno vi ho detto che come texture secondo me erano simili queste due in realtà quella di Voyeuristic Vixen secondo me ha più base colore rispetto a quella della Venusian Sunrise che sembra più un topper altre comparazioni che volevo farvi riguardano questo colore qua il più chiaro matt perché in pat di solito è alquanto difficile trovare un colore di transizione che vada anche bene per le pelli più chiare sebbene i matt di pat siano altamente sfumabili e si riesce ad ottenere più o meno l'intensità di colore che si desidera comunque vi ho swatchato alcune cialde questo è quello della Venusian Sunrise cioè della palette appena uscita mentre il secondo colore fa parte della palette uscita per questo Natale quella grande se riesco a tenerla aperta questo colore qua che è stupendo da transizione ed è un pochino più scuro e più neutro il terzo colore questo qua invece arriva dalla paletta Iconic Infatuation la versione rosata delle palette uscite poco tempo fa ed è il matte più chiaro ed è decisamente più rosato rispetto a quello della Venusian Sunrise mi stava per cadere il quarto swatch il penultimo deriva invece dalla Mothership numero 1 questo matte qua che è sempre stato considerato il matte più adatto alle pelli chiare anche più neutro neutro freddo non troppo caldo rispetto invece a tutti gli altri matt presenti nelle Mothership soprattutto nelle prime Mothership mentre l'ultimo swatch questo qua che è decisamente più caldo più senape scusate un po' macchie perché il mio dito non ne poteva più delle salviette arriva dalla Mothership numero 6 ed è questo qua ed è decisamente più caldo ci tenevo a farvi vedere questi swatch di questo colore qua appunto per la difficoltà che si ha a trovare un colore di transizione nelle palettes di Pat soprattutto nelle prime quello della Venusian Sunrise rispetto a tutti gli altri è sì neutro ma un pochino più bronzato ma non dà sull'arancione soprattutto sull'occhio motivo per cui a me questa palette piace tanto perché i matt risultano neutri sull'occhio soprattutto se comparate i due shimmer e l'abbinata matt neutri e shimmer anche se caldi mi piace questo colore qua non pensavo che mi piacesse così tanto pensavo fosse molto più caldo più aranciato invece messo con il pennello è vero è più sheer a poca base colore ma per me è più portabile io l'ho messo anche con il dito gli altri giorni e rimaneva un po' più aranciato nel complesso mi piace tantissimo il colore che mi piace meno è questo qua perché dà troppo sul dorato e soprattutto da mettere come illuminante nell'angolo interno rende il tutto troppo troppo caldo comunque questi due matt qua sono ultra sfumabili io oggi li ho picchiettati gli altri giorni li ho sfumati direttamente non fanno assolutamente macchia però sono tanto pigmentati se si picchiettano il payoff è immediato anche il più chiaro è molto molto pigmentato messo con un pennello più fluffy però riesce a dare quell'effetto nude look che è quello che io ricerco soprattutto da una palette così calda mi piace tantissimo questa palette però mi ricorda un po' altre già uscite di Pat ad esempio la bronze borealis che io non ho però me la ricorda un pochino quindi se ce l'avete già io non so quanto ne valga la pena e anche se avete già parecchie palettes di Pat McGrath perché i bronzi dorati si ritrovano praticamente tutte le mothership mi si è scaricata la batteria comunque per quanto riguarda i bronzer sono dei bei bronzer sì ma al momento dico al momento perché ce li ho da talmente poco che non posso dire altro però al momento non sono tra i miei preferiti o gli indispensabili sono dei bei bronzer hanno una bella formula sottile hanno un finish demi-matte per nulla piatto non polveroso si sfumano si modulano benissimo però quello che non li fa essere i miei bronzer preferiti sono i colori anche se non vira non è talmente al giallo all'arancione io preferisco dei bronzer più rosati e i miei preferiti rimangono rosati neutri e i miei preferiti rimangono Dior Gucci e Tom Ford questi anche se sono più caldi però sono dei bei bronzer assolutamente l'unica cosa non ne prendete due soprattutto di colori così simili anche perché modulandoli un po' sembrano più o meno lo stesso non c'è molta differenza se proprio volete prenderne due che siano di colori abbastanza diversi però poi dipende che uso ne farete non so se mi sono spiegata altra cosa da prendere assolutamente con i saldi tanto ormai Pat McGrath fa saldi ogni 3x2 se non sono scontati adesso lo saranno tra pochissimo quindi aspettate tanto sono in collezione permanente e quindi si trovano io ho finito sinceramente non pensavo neanche più di essere in grado di girare un video volevo ancora ringraziarvi tantissimo veramente non sapete quanto mi abbia fatto piacere tutto ciò io spero di avervi tenuto compagnia vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima ciao ciao